2 1 2 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 13 13 raga porto svegli no no dovrei far la barriera no svegli sulla seconda palla raga uno che comanda tutti attaccati a zek malai pergo esco guarda la porta fermi fermi